Buongiorno a tutti, siamo a Lugo di Romagna, ultimi trapianti del progetto Nocciolo Teremerse per quanto riguarda inverno 2020-2021, riprenderemo a dicembre 2021. Ultimi etteri, il progetto Nocciolo Teremerse è iniziato bene, molto interessate le aziende agricole. Vedete anche qui come nei video precedenti che vi ho fatto vedere un sistema di trapianto di precisione, macchina trapiantatrice con la capacità di localizzare anche in maniera localizzata il concime, sistema GPS che permette uno squadro perfetto. Tra l'altro potete vedere che la pianta è già in movimento, notate piante certificate. Grazie a tutti. perfetto continuate a seguirci progetto nocciolo terremers www.terremers.it